Finisce 1-1 il test amichevole al Petruzzi tra Renato Curi, Angolana e Pescara, padroni di casa in vantaggio nel primo tempo con Lombardi pari Biancazzurro nel finale con il solito Facundo Lescano. Torna al 4-3-1-2 il tecnico Colombo nel primo tempo, Luca Mora fa il trequartista alle spalle di Cuppone e Blanuta in mediana. Crasia con Germinario ancora una volta in campo dal primo minuto e Giabuà mezze ali in difesa Boben e Capitani in grosso con Saccani e De Marino Elati. Tra i pali c'è Sommariva. Il Pescara nel primo tempo ha l'occasione per passare in vantaggio con il calcio di rigore che si è procurato Cuppone. La conclusione dell'ex casertana toccata dal portiere di casa Cosentino deviata sul palo. Nel finire di tempo il vantaggio dell'angolana, ripartenza di Lombardi che corre molto bene per vie centrali. Conclusione all'angolino basso, non può arrivare Sommariva. È un Pescara che ha provato a costruire ma che a conti fatti ad eccezione dell'episodio del rigore non si è mai reso pericoloso. Nella ripresa Colombo deve ruotare le mezze ali nel primo tempo, durata 20 minuti, la partita di Germinario al suo posto gioca Milani, poi tocca Pellacani e a gara in corso Chiarella. Ben quattro giocatori differenti nel ruolo di Mezzala. Anche un segnale che il mercato è necessario per completare il reparto. Il Pescara alla mezz'ora è completamente rinnovato, giocano tutti gli effettivi della panchina. Il pari arriva con il cross di un più che positivo Cancellotti, colpo di testa di Lescano che termina all'angolino. Al triplice fischio le parole del DS Daniele Dellicarri e di Aristidi Colai. Dellicarri primo bilancio dopo questa serie di amichevoli estiva? No, il bilancio sulle amichevoli io non lo faccio mai perché penso sempre all'inizio del campionato che è la cosa più importante. Cominciamo a avvicinarci, siamo molto vicini, mancherà 20 giorni, dobbiamo avere l'atteggiamento giusto per affrontare le partite come sempre, ma delle amichevoli non parlano, non mi interessano sinceramente. Mercato tra i giocatori almeno per chiudere la rosa? Mercato tra i giocatori per chiudere la rosa, punto. Ghion a che punto è? Siamo a buon punto, la prossima settimana vediamo di chiudere. Preoccupato? No, assolutamente. No, ma il calcio in questo momento va in questa direzione, anche le squadre di Serie A, guarda la Juventus deve prendere 3-4 giocatori, la fatica c'è dalla Serie A, la Serie B, la Serie C, sono tutte trattative complicate come sempre. E intanto nel tardo pomeriggio di ieri da Avellino rimbalzano voci di un possibile ritorno di fiamma per il centrocampista Aloy, proposto anche lo scambio con Ijanes, il difensore ci sta pensando. L'ultimo arrivato in casa Pescara, Aristide Colai. Aristide, partiamo da qualche settimana fa, perché si diceva che è impossibile che viena a Pescara, vuole solo la B, poi invece cosa è successo? No, io non ho mai pensato questo. È normale, l'anno scorso ho fatto un campionato di Serie B, magari stavo cercando di capire un po' le situazioni. Poi appena è arrivata la chiamata del Pescara non ci ho pensato due volte, perché comunque è una piazza importante. Qui si respira l'area di Serie B, quindi sono venuto qua per fare bene e mettermi in gioco. Contratto triennale, c'è l'opzione per il quarto in caso di Serie B, significa che il Pescara punta molto su di te? Sì, ho visto che comunque c'è stato un interesse forte, quindi anche quello mi ha spinto ad accettare la richiesta. Sì, abbiamo l'opzione per il quarto anno, sperando di poterla esercitare. Andiamo un po' in là con gli anni, perché nel Sassuolo giocavi con Raspadori, con tutti i giocatori più forti in maglia nero-verde. Il sogno tuo è ritornare lì un domani, chissà? Diciamo che è il sogno di ogni ragazzo, poter fare quel calcio lì. Comunque sì, ho avuto la possibilità di confrontarmi con gente forte e niente, sono contento dei loro percorsi. Io sono qua a fare il mio percorso e spero di poter fare il meglio possibile per la squadra. Sei arrivato come trequartista, però con te in campo Colombo è passato al 4-3-2-1. Dove preferisci tu? Io sono un trequartista esterno, quindi dove mi farà giocare il mister io mi metterò a disposizione, però il mio ruolo è sempre stato trequartista esterno. Con il vizio del gol, perché con la Pro Padre hai fatto anche 6 reti, se non ricordo male, in C2 anni fa. Sì, 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 ho fatto qualche gol, comunque il mio obiettivo è far bene, se arrivano i gol è ancora meglio.